Buongiorno e benvenuti a Business Planet qui da Bristol. I disoccupati di lunga durata, i giovani, le persone anziane, i portatori di handicap, le donne o gli appartenenti alle minoranze etniche. Tutte queste persone sono poco rappresentate tra gli imprenditori europei. Qui in Inghilterra da qualche anno esiste un programma che permette a queste categorie di concretizzare le loro idee. E vedrete, i risultati sono eccellenti. Abbiamo incontrato Michael. Michael da due anni si è specializzato nell'affitto di camere per studenti. La sua impresa funziona decisamente bene e ha già creato sei posti di lavoro. Michael per due anni disoccupato si è rivolto ad Outset. Attraverso questo programma, che ha appena ricevuto il Gran Premio della giuria del Premio Europeo per la Promozione d'Impresa, ha seguito una formazione di due mesi destinata ai disoccupati che vogliono avviare un'attività improprio. All'inizio vendevamo posti letto per sole 70 sterline alla settimana, ora li vendiamo a circa 175. E questo perché ho imparato a pubblicizzare un po' meglio il prodotto, migliorato il servizio. Molte di queste conoscenze le ho apprese tramite Outset. Nel 2012 suo giro d'affari ha superato i 300.000 euro. Michael oggi accoglie una cinquantina di studenti di svariate nazionalità, ma spera di andare ben oltre. Vorremmo creare una scuola, una struttura in cui i nostri ospiti possano imparare l'inglese. E vorremmo anche creare contatti con aziende locali, in modo che agli studenti si possa offrire anche un'esperienza lavorativa. Dopo Michael incontriamo Bev Harley, ideatrice di Outset, e George Ferguson, sindaco di Bristol. Dal programma sono nate circa 170 imprese, più di 200 posti di lavoro, e l'economia di Bristol è cresciuta di oltre un milione di sterline. In tutta l'Inghilterra, grazie a questo programma particolarmente innovativo, sono stati creati circa 1.500 posti di lavoro. L'obiettivo è ridare fiducia alle persone, formare degli imprenditori, definire un business plan e ovviamente essere certi della fattibilità del progetto. Solo così i futuri imprenditori otterranno i fondi necessari alla start-up. Una volta che dal piano sono stati tolti i rischi, possiamo presentarla agli istituti di credito e così diventa molto più semplice ottenere i finanziamenti. Abbiamo ricevuto circa un milione di sterline per i clienti di Outset, anche se alcuni di loro avevano alle spalle fallimenti o erano stati esclusi dalla finanza tradizionale. Per me le chiavi del successo sono avere un'idea, credere in se stessi ed essere certi di poter trasformare le idee in fatti e duro lavoro, essere determinati nell'inseguire il successo.